Era il 19 febbraio 2007, il corpo seminudo di Aldomiro Gomez con il cranio fracassato venne scoperto in queste strade alla periferia di Trani, in una traversa di Vieduchessa d'Andrea. Tatiana, con questo nome era conosciuta nell'ambiente, aveva 56 anni e venne trovata nei pressi della sua vecchia Fiat Uno di colore grigio. Venne ritrovato un preservativo con liquido seminale, un'agenda con nomi di clienti insospettabili, ma mai l'oggetto con il quale sarebbe stata massacrata Tatiana. Gli sviluppi giudiziari della vicenda hanno intorbidito la scena nella quale si sarebbe consumato l'omicidio, forse non un delitto d'impeto al termine di un rapporto sessuale, né una rapina ma una rappresaglia maturata in un giro di usura. Risvolti del mondo criminale locale a parte, a distanza di 14 anni il delitto di Tatiana non è giunto a soluzione. Ed oggi, nella giornata contro l'omotransfobia, vogliamo ricordare quante volte Tatiana, durante l'attesa dei suoi clienti, sia stata presa di mira da molestie invettive e lanci di oggetti. Nel 2012 il circolo Archie Gay Bat manifestava in via Duchessa d'Andrea con una fiaccolata per rendere onore alla memoria di Tatiana. Donato De Ceglie per Trani Live.